E diversi incendi sono divampati la notte scorsa in provincia di Chieti, il più importante a Cupello nel Vastese. Il rogo ha interessato una superficie di circa 60 ettari in contrada ributtini. Le fiamme sono divampate intorno alle 21.15 di ieri sera e sono state definitivamente domate intorno alle 6.30 di questa mattina. Per spegnere l'incendio sono state concentrate in quell'area 10 squadre dei Vigili del Fuoco con uomini e mezzi provenienti da quasi tutte le caserme della provincia di Chieti, soprattutto a protezione delle abitazioni e dei ricoveri degli animali. Nessuno è stato evacuato, al momento non ci sono ipotesi sull'origine del rogo. Altri incendi di sterpagli e di piccola entità si sono verificati nella zona industriale di Farafilio Rumpetri, a Orsonia ed in una contrada di Atessa.